Fin quando avevo 14-15 anni, allora le scuole erano ginnasi e liceo, sono stato un pessimo studente, nel senso che me la sono sempre cavata con gli studi, scusate un po' lungo ma c'è il motivo, mi arrangiavo più o meno, tanto da non essere mai bocciato, per dal punto di vista disciplinare, firme false sui certificati, pasticci vari, sono stato uno studente veramente pessimo, tanto è vero che in un ginnasio-liceo di Milano vicino a casa nostra, mio fratello sei anni dopo quando mia madre è andata a iscriverlo, gli hanno detto con un senso di disgusto, mi ha riferito a mia madre, ma sarà mica il fratello di quella della mia madre? E dice sì, insomma si ricordavano ancora di me, vabbè, essendo stato così, i miei genitori ovviamente volendo metterci un provvedimento, mio padre che non era un militare, aveva deciso di mandarmi alla scuola militare, c'era allora Milano, parlo poco prima della guerra, parlavano i 36 più o meno, e ce n'erano tre, Napoli, la cosiddetta, come si chiama, la nunziatella, che c'è ancora, c'era a Roma che è sparita credo, e c'è stata per un breve periodo in cui sono andato io a Milano, sparita anche quella attualmente, e questa scuola militare mi ha raddrizzato le ossa, non so perché, e sono diventato un allievo piuttosto bravo. Alla fine del periodo, con la licenza liceale a posto, il proveniente della scuola militare era gestita dall'esercito, ma era comunque gradito, se non proprio nell'esercito, che un almeno intraprendesse la carriera di ufficiale in servizio permanente, cioè che andasse a una delle accademie militari, e siccome già da allora c'avevo un po' lì degli aeroplani, mi piaceva, da ragazzino parlo sedicenne, diciassettenne, ho chiesto di andare all'accademia di Caserta, che allora era a Caserta l'accademia, e così è cominciato il canale, ho fatto il corso regolare dell'accademia, sono uscito nel 1942, ho fatto un po' di operazioni nell'aeronautica a Regia, e poi sono stato al nord con Visconti. Primavera e estate del 1942 ero sottottenente in servizio permanente effettivo di sottottenente pilota dell'aeronautica, e nel 1942 ne avevo 21. Tra l'altro sono uscito nella primavera, però c'era ancora un passo da fare prima di essere segnata nei parti, cioè la scuola di specializzazione, che uno potrebbe essere mandato alla caccia, al bombardamento, alla ricognizione, a quello che eris. A me mi hanno mandato alla caccia, sono voluti 3-4 mesi all'aeroporto di Foligno, alla specializzazione della scuola caccia, con cui ho fatto gli aeroplani che c'erano allora, biplane e fino al Machi 200. E sono venuto proprio addetto al reparto nell'autunno del 1942 praticamente, e mi hanno mandato subito la prima assegnazione, diciamo, al 54esimo stormo che era di base a Caselle. L'addestramento bellico devo dire che l'aeronautica militare l'ha sempre molto trascurato. Si occupava che i piloti diventassero bravi piloti, che portassero bene gli aeroplani, che gli fosse fare quello che volevano, ma sì, abbiamo fatto alcune pochissime esercitazioni di tiro alle sagome, eccetera, ma niente di più di questo praticamente. In quei 3-4 mesi ho fatti i vari aeroplani. Il vecchio CR32, poi il 42, poi credo un brevissimo periodo, se ricordo male, con il Nardi 305 di, diciamo, di transizione al monoplano. Dopodiché, dopo il Nardi 305, G50 e Macchi 200. I biplani erano forse un po' più scapricciosetti dei monoplani, i monoplani erano più macchine militari, cioè il biplano forse potrebbe essere leggermente più divertente dal punto di vista del pilotaggio, ecco, tutto questo è il fatto. Noi eravamo molto affezionati ai macchi, devono essere macchi 200, 202, 205. Grazie a tutti.